Il palazzo di giustizia di via Nazarean offende il prestigio della città di Bari, lo afferma il procuratore e capo Antonio Laudati, il quale a Bari da qualche settimana ha già individuato i punti di debolezza dell'amministrazione della giustizia nel capoluogo. È difficile dargli torto perché l'inadeguatezza del palazzaccio non è una novità, se ne discute, si polemizza da tempo ma le soluzioni tardano a venire. Se poi aggiungiamo a questo le polemiche e le vertenze giudiziarie in relazione alla proprietà dell'immobile, alla sua sicurezza non soltanto ma anche alle autorizzazioni urbanistiche che hanno consentito la costruzione, ci troviamo di fronte ad una situazione che è poco definire grottesca. Dicevo da anni si fa polemica e ogni volta emerge la questione della città della giustizia che se realizzata secondo i progetti originari oggi sarebbe quasi pronta. È stata privilegiata al contrario la cosiddetta soluzione arcipelago e cioè tante sedi nel rione libertà in edifici di proprietà comunale però da ristrutturare. Ma finora non si è mosso un dito verso questo tipo di realizzazione perché non ci sono progetti, non c'è un piano finanziario, non sono previsti i tempi di attuazione. Quindi tutta roba di là da venire e noi non siamo difensori della soluzione cittadella indubbiamente, tifiamo esclusivamente per una sede adeguata che consenta all'amministrazione della giustizia una agibilità indubbiamente che da anni manca. Però finora si discute di questi problemi soltanto sulla scorta degli interessi economici che sono coinvolti e che coinvolge molte figure professionali, ingegneri, architetti, urbanisti, soprattutto imprese edili. L'amministrazione della giustizia diventa a questo punto un dettaglio. Il procuratore laudato osserva che in quel palazzo non sono garantite né la sicurezza né la segretezza degli atti. Anche questa non è una novità per i nostri amministratori comunali. Questa ennesima tirata d'orecchi servirà a far capire a loro signori che la giustizia è una cosa seria? Buonasera.